Diego Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san Paolo in Italia 740 in Almania 231 cento in Francia e in Turchia nuova luna mori di Spagna ma in Spagna sono già mille tre mille tre mille tre almanacco di bellezza 18 marzo Leonardo Piccinini Piero Maragli e il 18 marzo del 1904 anniversario ottondo sono 120 anni si spegne a Fredericksburg Danimarca all'età di 82 anni Regine Olsen faceva freddo in Danimarca il 18 marzo perché ne parliamo Leonardo perché è stata la fidanzata e non solo una storia tristissima ma bellissima di un grande filosofo di Soren Kierkegaard la spina nelle carni l'alimento uno dei principali biografi del grande filosofo danese ha definito il loro rapporto una delle storie d'amore più grandi della letteratura non c'è dubbio noi ci avventuriamo indubbiamente ma lo facciamo spesso su un terreno sdrucciolevole perché perché presentare una donna all'ombra di una grande personalità maschile rischia di essere ingeneroso beh d'altra parte però diciamo che in secoli passati sono stati dominati che si voglia o no la transizione sta per chiudere che sia giusto o no dal predominio del maschio il maschilismo poi allusarti una scella mentre oggi invece è tutto diverso ma insomma allora nel caso lo si sta parlando tra l'altro di una ex che ha finito poi per sposare un alzio se vogliamo ridurre è una storia e la ricerca di intrecci tra vita privata e pensiero di un filosofo è un'operazione quasi sempre foriera di storpiature tutto ciò premesso Kierkegaard e Regine dobbiamo parlarne anche insieme non possiamo separarli è vero beh perché lui fa del tratto autobiografico una chiave fondamentale del suo pensiero filosofico e della sua esperienza con Regine una ispirazione vera per l'elaborazione di questo pensiero in più abbiamo un sacco di documenti nei diari di lui e poi nel copioso carteggio di cui soprattutto sopravvive la parte scritta da Kierkegaard che lei avrebbe conservato meticolosamente ecco inoltre i più autorevoli biografi ed esegeti del pensiero di Kierkegaard concordano nell'affermare che la sua opera filosofica appunto come ho detto prima sia costellata di riferimenti più o meno diretti al tormentato rapporto con la fidanzata di un tempo allora la vicenda ha lasciato delle tracce molto importanti nella sua visione del matrimonio e dell'amore nei concetti di autenticità e addirittura in quelli di fede in o di relazione con dio se cerchiamo di ripercorrere per sommi capi questa vicenda c'è un giorno di primavera come in ogni bella storia siamo nel 1837 lui il filosofo all'epoca 24enne ed è studente di teologia di straordinario carisma intellettuale che ricordiamo aveva avuto un'infanzia tremenda perché veniva da una famiglia di intransigente religiosità a Kierkegaard il peccato il castigo divino lui poi era avviato diciamo a una carriera da pastore che poi invece avrebbe avuto delle interruzioni molto importanti per fortuna anche no se allora lui la incontra quel giorno per la prima volta lei a 14 anni è la figlia di un funzionario del regno di danimarca ed è la ragazza dotata di fine intelletto artistico e sensibilità ma come si sa in danimarca c'è del marcio o una ringa fumicata che possono la stessa cosa allora pare che l'incontro lasci una fortissima impressione sulla giovane e sappiamo che nei successivi anni la cosa incomincia diventare reciproca tre anni dopo siamo nel 1840 la ragazza ha quasi 18 anni Kierkegaard non molla torna a casa Olsen e presenta la sua proposta di fidanzamento al padre di Reghine la famiglia Olsen non potrebbe essere più felice perché i due giovani si amano e poi soprattutto Kierkegaard è diventato un buon partito nel senso che è prestigioso è riconosciuto in tutti gli ambienti intellettuali danesi è diventato famoso anche in Germania e ha fatto i suoi soggiorni di studio a Berlino dove tra l'altro ha seguito devo dire con entusiasmo calante sappiamo le lezioni Schelling è l'inventore dello Schellino dai sta per chiudere una sua dissertazione per diventare appunto pastore cosa accade qualcosa si guasta 1841 la maionese sì dopo un anno scarso di convivenza relativamente felice Kierkegaard comunica in via ufficiale la rottura del fidanzamento per Reghine per la sua famiglia è una tragedia ci sono dei tentativi da parte del padre del fratello di Reghine di far tornare Kierkegaard sui suoi passi ti prego Kierkegaard ma e tra l'altro sono anche condotti in modo molto civile cioè non siamo no la cosa non siamo in Italia ecco nella convinzione che i due non stanno bene come coppia sono ben assortiti ma anche lo stesso filosofo la pensa così ma sembra proprio questo il problema quindi l'impossibilità della felicità bella come cosa e lo so piace molto anche a te bella l'impossibilità della felicità sapete quante donne fa patire questo qui ma una cosa terribile poi scrivono a me io naturalmente le accolgo e approfitto anche di questo dolore per la consolazione delle disperate leonardesche senti Reghine è consapevole delle necessità di un grande filosofo è disposta ad occupare un cantuccio ritirato nella vita di quest'uomo ma la situazione non migliora anzi perché c'è le signorini ci sono le voci il gossip a copenhagen il nome di Kierkegaard sta diventando celebre e ci sono non delle foto perché ancora non c'erano ma delle vignette pensa alla fama di costui perché c'erano delle vignette che ironizzavano sulla rottura della coppia e quindi questa cosa dispiaceva molto perché entrambi erano molto riservati sia a Kierkegaard e sia a Reghine con tutta la famiglia Olsen la famiglia Olsen non era proprio contentissima no allora quando è acclarato che questa situazione è irrecuperabile Reghine cade in un periodo di malattia si dice che addirittura mediti il suicidio e poi taglia ogni contatto con Kierkegaard per diversi anni il filosofo vive questo amore per Reghine come il croccio della vita una vita sappiamo piuttosto breve il gelo dei due però a un certo punto si intiepidisce lentamente si incontrano sporadicamente nelle celebrazioni domenicali sciambola sciambola veramente e ogni tanto si incontrano per strada come stai? e iniziano di nuovo a dirsi delle parole com'è che fai? come stai? si parla così in Danimarca? sì più o meno pensavo che fossimo a Civasco nel 47 1800 a Olsen con volano ecco questi sono quei momenti che danno un taglio all'incertezza poi anche lì chi è il marito l'ex tutore? Johann Friedrich Schlegel che non è Hegel no è Schlegel Schlegel la coppia non solo non è per nulla ostile a Kierkegaard ma ne ammira l'opera e si racconta che loro la sera stiano lì insieme a leggere le opere del Kierkegaard la sera fa toc toc a un certo punto lui scrive al marito mi ha giunta voce vorrei rivedervi so che mi leggete di notte se volete vengo lì io vi recito i miei scritti ma Schlegel ritiene che questo no sia troppo addirittura lui non risponderà mai al marito e poco dopo 1855 a soli 42 anni e il nostro Kierkegaard si spegne in un ospedale di Copenhagen dopo una triste agonia di un mese aveva sempre avuto problemi di salute pare sembra per quella caduta dall'albero quando era bambino mamma mia che cosa inquietante io sono caduto dall'albero per cui faccia gli scoggiuri non ho più molto da vivere no adesso ci sentiamo per ti prego come facciamo per l'armanacco dopo? ma no ma loro vogliono solo te no hai visto le lettere che a me arrivano delle lettere non so con dentro e delle fatture no ma anche cose usate l'altro giorno un cotton fioc invece a lui gli scrivete delle lettere d'amore che errore allora Regine gli sopravviverà per quasi mezzo secolo poi anche Schlegel a un certo punto a un certo punto vuole anche lo Schlegel 1897 e lei accetta di sciogliere il risembo sui suoi rapporti con il filosofo mette tutto in piazza in realtà non è che le sue dichiarazioni aggiungono molto a ciò che già si conosceva dagli scritti di lui noi abbiamo ragione di affidarci a proposito di relazioni tra uomo e donna al terribile libertino di cui Kierkegaard si è Kierkegaard si è ampiamente occupato Don Giovanni Don Giovanni Ecco si racconta che Regine Olsen si sia spenta in quel 1904 in primavera nella piena consapevolezza che Kierkegaard avesse condotto anche il suo nome nella storia filosofica che dice anche io ho il mio ruolo che ciò sia stato di lenimento per tutta questa sofferenza le ragioni profonde della rinuncia a un fidanzamento che si prospettava come felice pare siano profondamente radicate nel pensiero di quello che è considerato universalmente il primo filosofo esistenzialista ante litteram poi si è parlato molto anche dell'educazione severa luterana di cui avevamo detto sopra la convinzione da parte di lui di non essere in grado di rendere felice lei quindi un amore assoluto, supremo, nobilissimo poi bisogna anche guardare al testo, al suo trattato più rappresentativo parliamo di Out Out e Leonardo se volete ve lo legge in un'altra puntata speciale da solo in francese però con la grandiosa sezione intitolata Diario del Seduttore chiosata da quella riflessione sui tre stadi dell'erotismo e dalla appunto celeberima analisi filosofica del Don Giovanni di Mozart e da Ponte lui immagina di trovare in un cassetto le morie di un libertino che racconta di stratagemmi seduttivi per conquistarsi l'affetto di un'anima gentile e poi per rompere la relazione insomma Kierkegaard era anche molto bello ma era tutt'altro che un impenitente libertino era un uomo che soffriva e lui parla di infedeltà a lei ma in realtà probabilmente dice delle bugie per cercare di smarrirla di smarrirla e nel pensiero di Kierkegaard al centro c'è sempre la condizione tragica dell'individuo costretto a intraprendere una sola scelta nell'infinito mondo delle possibilità e quindi un'angoscia che lo pervade quindi a questo punto insomma il povero Kierkegaard da un lato ci interessa moltissimo e dall'altro ci fa anche un po' pena per la sua breve parabola esistenziale indubbiamente noi ci congediamo ancora una volta che fondano Giovanni grazie a tutti in sound and picture we bring you the awe-inspiring scenes of Mount Vesuvius in eruption Newsreel and RAF film unit cameras record the volcanic outburst flying around the crater our cameraman sees the deadly stream of molten lava starting on its downward path with enormous cumulus clouds of hydrangea colored smoke billowing upwards Leonardo 18 marzo 1944 ci sono altre tragedie di cui parlare ma dopo quasi due mesi e mezzo di attività preliminare i famosi preliminari che anche nel caso di Leonardo che volesse provare due mesi e mezzo il visumio entra nella fase effusiva effusiva cioè fa le fusa eruttando lava incandescente che seguendo i fianchi del cratere del monte Somma si dirige verso il ministro San Giuliano nooo i paesi di massa di Somma e di San Sebastiano in parte distruggendo sono cose serie non possiamo pensare al nostro ministro no che secondo me è pausa no potrebbe far parte un po' della lava va bene scrive Norman Lewis che faceva l'ufficiale dei servizi segreti perché ricordiamo che Napoli era stata liberata liberata si era liberata ed era stata liberata nel settembre del 43 e lui sul suo diario annota raggiunta San Sebastiano la lava sta scivolando sta scivolando tranquillamente lungo la strada principale e a circa 50 yard dal fronte di questa massa debordante c'è una folla di diverse centinaia di persone inginocchiata che prega e persone e questo per l'inglese era una cosa inaccettabile ma poi vedono presente viaggi in Italia di Rossellini e ci sono di fronte all'eruzione questi pellegrini che tengono in mano immagini di sante San Gennaro la statua di San Sebastiano e poi in un lato l'inglese si accorge che altri di fianco per non offender San Sebastiano hanno San Gennaro San Gennaro ma coperto con un telo bianco certo questo è il quadro 22 marzo comincia pochi giorni dopo quindi una fase contraddistinta da esplosioni molto forti pensate parliamo di getti di lava che raggiungono delle altezze 2 chilometri di altezza 2000 metri mentre la nube di polveri raggiunge 6000 metri cospargendo di ceneri tutto il meridione una cosa clamorosa siamo al 29 marzo oggi ne parliamo perché è il 18 marzo il giorno in cui inizia questo fenomeno stiamo parlando di circa 11 giorni di eruzione le esplosioni il 29 marzo cessano completamente e si crea una frane interna che chiude con un tappo di detriti il cratere impedendo la fuoriuscita del classico pennacchio di fumo che era diventato costante anche nei periodi di calma nel corso degli ultimi secoli la fumarola la fumarola con un conto finale fortunatamente limitato le vittime sono 26 sono tutti dei residenti di San Sebastiano si chiude l'ultima eruzione del Vesuvio lo strato vulcano entra in quello che si chiama stato di quiescenza che però è lì in attesa di un nuovo risveglio stiamo parlando di un tempo molto lungo sono 80 anni che sta buono nessuna vittima invece tra i militari angloamericani in distanza nell'area che vengono però accolti di sorpresa all'improvviso dall'attività del vulcano sappiamo che la base pensate i numeri sono impressionanti la base di Terzignio dove l'assaggio del Vesuvio alla fase esplosia crea danni più grandi di un bombardamento della Luftwaffe tedesca 88 bombardieri B-25 Mitchell vengono danneggiati e questo viene ricordato da un altro soldato Dana Craig del 480esimo squadrone ricorderò per sempre il momento in cui il Vesuvio ha errutato non ho mai visto nessuna bomba fare altrettanto noi dovevamo lavorare tra pietre che cadevano e cenere tutti avevamo i giubbotti di protezione e i caschi poi arrivò all'ordine di evacuare verso Napoli Leonardo il Vesuvio si è formato 30.000 anni fa in una zona vulcanica e almeno inizialmente si ipotizza che fosse un vulcano sottomarino situato nel golfo di Napoli noi abbiamo raccontato la storia dell'isola Ferdinand salutiamo gli amici planeta che insomma dedicano attenzione alla loro terra e anche al manacco si e quindi mandato come here copiose bottiglie senti sappiamo che in successive eruzioni si è trasformato prima in un'isola un po' come le isole dell'Hawai il Vesuvio il Vesuvio si è congiunto alla terra ferma grazie all'accumularci di materiale eiettato allora la parte antica sei stato sul Vesuvio ti è piaciuto molto 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 emozionante la parte più antica che oggi chiamiamo Monte Somma è un edificio vulcanico unico molto più alto e anche molto più ampio dell'attuale perché è cresciuto grazie a una serie di eruzioni laviche di tipo effusivo che sono durate pensate fino a circa 19.000 anni fa 18.300 anni fa 2700 anni dopo la prima grande eruzione cosiddetta Pliniana cambia per sempre l'aspetto del Monte Somma perché Plinio ha dare il nome a questo tipo di eruzione sì quindi la sommità del Monte collassa e crea il cono famoso di grandi dimensioni all'interno del quale nei millenni successivi si viene a creare un secondo vulcano che si chiama appunto il Vesuvio la cui attività annichilisce completamente quella del precedente Monte Somma cosa sono le eruzioni Pliniane beh sono quelle catastrofiche quelle che Plinio il giovane testimone diretto della tragica eruzione del 79 dopo Cristo quella dove muore lo zio Plinio il Vecchio sai che Plinio il Vecchio non perdeva mai un secondo della sua vita anche quando era in piscina che nuotava uno schiavo gli leggeva qualcosa perché doveva sempre tenere la mente occupata è quella che distrugge Pompei Ercolano e Stabia Stabia Prima della grande eruzione del 79 per molti secoli il Vesuvio non appare come un vulcano ma come un monte tranquillo e normalissimo sulle cui pendici fioriscono tra l'altro orti vigne e sulla cui sommità Kurt Douglas c'è l'ampia spianata bravo dove trova rifugio Spartaco con la fossetta con la fossetta di Kurt Douglas e la sua armata di schiavi siamo nel 73 a.C. ed è la terza guerra cosiddetta servile quindi tra la famosa eruzione del 79 dopo Cristo e questa di 80 anni fa esatti per cui è un anniversario importante questo 1944 ecco in questi secoli il Vesuvio erutta 36 volte circa più o meno ma per quanto importanti e drammatiche nessuna di queste eruzioni supera il livello subpliniano cioè cioè restano meno potenti dei 100 megatoni è come se fosse 6.000 bombe di Hiroshima che sono stati attribuiti appunto all'eruzione quella che ha distrutto Pompei nel 472 pensate le ceneri arrivarono fino a Costantinopoli e spaventarono non poco la popolazione della capitale dell'impero romano d'oriente e nel 571 i danni sono talmente gravi che Teodorico il grande garantisce l'esenzione dalle tasse degli abitanti delle pendici vesuviane è lì che inizia 1631 16 dicembre dopo tre secoli di riposo un'altra eruzione che in 19 giorni uccide 4.000 abitanti e ne costringe 44.000 sfollari in zone più sicure la più grande del XX secolo è quella del 4 aprile fino al 21 del 1906 la corrente lavica raggiunge Torre Annunziata e solo le mura del cimitero riescono a fermarla sappiamo che ci sono 216 morti di cui tra l'altro 105 vengono colti sul colpo all'interno della chiesa di San Giuseppe Vesuviano perché il tetto viene sfondato dalle ceneri per il costo dei danni derivati da questa eruzione l'Italia sarà costretta a rinunciare all'organizzazione dei giochi olimpici del 1908 che saranno tenuti a Londra in concomitanza con l'Expo franco-britannica che tra l'altro aveva lo scopo di rafforzare l'entente cordiale tra Regno Unito e Francia e che già che c'era stabilì le zone di influenza dell'Africa non era tanto cordiale è corrighello dopo poco più di tre secoli 1631 1944 di attività sostanzialmente ininterrotta caratterizzata dal condotto sempre aperto che rendeva in qualche modo le eruzioni intuibili a causa del loro andamento ciclico il Vesuvio l'abbiamo detto è entrato in questa fase di quiescenza prolungata che obbliga gli scienziati a un monitoraggio molto attento delle sue attività allora sapete che c'è una ricerca del 2001 questa è una cosa fa gelare il sangue ha rivelato un accumulo di magma alla profondità di otto chilometri sotto la superficie e ha calcolato 650 chilometri quadrati di questa superficie quindi è espanso che parte dal centro del Golfo di Napoli e raggiunge all'interno anche le Dolomiti cioè vuol dire che noi siamo sopra la lava vabbè San Gennaro San Gennaro pensaci tu senti il porcione sta bene c'è anche una perlina non so perché non sia stata staccata è strana per venderla è certo Leonardo tu oggi ci fai una sorpresa prendi questo io prendo questo io sono il suo assistente mi chiamo Piero e questi sono gli atlanti che sono usciti i nuovi atlanti stradali lui se li fa regalare dicendo poi ne parlo in trasmissione ma ma datemi le due copie e l'altra la regala alla sua amorosa e non a me no no questi sono gli atlanti nuovi 2024 2025 del Touring Club italiano sono molto belli io sono cresciuto con questi atlanti oggi ci sono i navigatori quindi uno dice che ce ne fai facciamo guardate gli atlanti ma io farei li aprirei a caso io li aprirei a caso ad esempio qua non so c'è ad esempio c'è Ponna Pozzolo Formigaro beh Palenzona Fabrizio poi c'è si arriva a Betola a Betola e Luigi Bersan poi abbiamo il centro il centro arriviamo a Orovinio ad esempio Stefano Luttini Stefano Luttini poi al sud Trabia Trabia o anche Piazza Armerina ci sono le polemiche in questi giorni per i mosaici però io vorrei che tu mostrassi Ponna Ponna si è molto semplice si va all'indice che è in ordine alfabetico come ovviamente puoi immaginare ed ecco qua 10 e 1 vedete che c'è Ponna sono gli ultimi lembi dell'Italia quindi noi salutiamo il Votolu tutta la sua famiglia e Luca è già da Barbieri perché stiamo andando a Ponna a Ponna con l'Atlante così capiamo dove andiamo perché con il navigatore tu vai si ma non sai dove sei non sai niente pensa quando tu sarai sindaco di Ponna si e io assessore alle politiche sociali ma no al cibo ai cimiteri ai cimiteri grazie Leonardo avete visto come sindaco come generoso bene aspetta ecco oggi è l'Onedé e qui proprio riferito a lui a nesermenga un chilo cosa vuol dire? non essere un chilo cioè? cioè non essere stupido non essere poco intelligente grazie perché come unità di misura dell'intelligenza al chilo nesermenga il chilo va bene menga 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 scusate menga menga è lumbar è lumbar va bene arrivederci grazie domani siamo qua al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Nicolò Cazzola e Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo di QTSS per la pietà di Pio a città di Pio voglia diville Grazie a tutti